Vento e mare favorevoli per un fine settimana a Marina di Ragusa, allungate soprattutto a tutta vela. Al porto turistico, infatti, centinaia di giovani atleti provenienti da tutta la Sicilia hanno partecipato nel fine settimana in rappresentanza di 18 circoli velici alla regata classe Optimist e, precisamente, nello specchio d'acquantistante lungomare Andrea Doria. E ci sono stati numeri da record per una regata che ha saputo trasformarsi in uno straordinario appuntamento, valevole per la prima selezione regionale del campionato nazionale Ander-16, per la seconda prova del trofeo del comitato settima zona FIV e per la selezione ai giochi delle isole. Le due splendide giornate di sole che hanno accompagnato le gare hanno quindi permesso di creare uno spettacolo anche per quanti, in tantissimi per via della festività del primo maggio, hanno assistito a terra alle prove nei tre giri di boa programmati. In vetrina, quindi, tra gli Ander-16 categorie juniors, Andrea Valentino Marotta, mentre tra le ragazze, primo posto per Leonora Barbera. Tra i cadetti, primo posto, invece, è per Tommaso De Fontes, mentre tra le ragazze si è imposta Silvia Dorni.